44. Scoppiato Sono un giovane barbone, poeta, alcolista e solitario lettore di libri rubati. Ho provato a inserirmi molte volte nella società, ma non ce l'ho fatta, e ora sono uno scoppiato. Per sentirmi meno solo, vorrei approfittare di questa intervista per chiedere ai miei concittadini che vanno in vacanza qualche cartolina perché le mie giornate si tirano dietro la voglia di compagnia come una rete a strascico. Prego perciò chi vuole aiutarmi di iscrivermi. Il mio indirizzo è dormitorio pubblico di via degli Abruzzesi 23 00134. Commento Quando queste creature sentono il bisogno di dialogare con gli altri, è segno che iniziano a risalire la china della separatività. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.